Diventa ogni anno più importante, No Smog Mobility ha avuto il pregio di parlare di questi temi dieci anni fa quando ancora cominciavano ad apparire sulle agende dei governi e se ne incominciava a parlare anche sui giornali. Oggi è un must, nel senso che i temi della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente sono ormai fondamentali. No Smog Mobility ci ha creduto fin dall'inizio, la Facoltà di Ingegneria allora, adesso il Dipartimento di Ingegneria, in generale l'Università di Palermo sono stati sempre vicini, nell'assoluta convinzione peraltro che ci potrà essere mobilità sostenibile, auto elettriche e quant'altro se ci sarà innovazione e ricerca, perché ogni tecnologia, ogni innovazione ha bisogno naturalmente di ricerca, di sviluppo, di studio e da questo punto di vista l'Università deve essere presente.